Benvenuti a tutti a questo mio nuovo video, oggi siamo qui per commentare la conferenza fatta a Romics da parte di Dnit che si è conclusa qualche secondo fa, sto girando il video a caldo in generale è stata una conferenza buona perché quelle poche cose che sono state dette sono anche abbastanza importanti, abbastanza positive però secondo me forse non è stata neanche una conferenza eccezionale, fantastica perché ci sono state veramente dette poche cose però quelle poche cose magari molto buone è stato annunciato il seguito di Sao Progressive che vabbè uno poteva darlo per scontato ma in un periodo del genere non lo era quindi vabbè fa piacere che comunque un titolo così importante Dnit lo riesca ad acquisire più o meno da subito sperando che a sto giro Luci di Alessandria lo proietti, grazie davvero grazie tantissime di non aver proiettato il primo film di Sao, grazie e poi hanno annunciato il long video dell'ultimo film di Evangelion ma in più tra l'altro con un nuovo doppiaggio fatto da loro dove da quello che ho capito vogliono riprovare a cioè vogliono diciamo cercare di utilizzare il caso storico tra cui Stella Music su Misato e in più ci hanno anche annunciato l'uscita al cinema e questo mi fa molto piacere più che altro perché comunque all'epoca ci fu molto un po' un peccato non averlo al cinema e quindi è un bene che si colmi in qualche modo questa mancanza certo non farà questi grandi incassi perché non tutti andranno a vederlo chiaramente non a rivederlo però secondo me a differenza di Nemo Slayer per Evangelion ne varrà la pena comunque perché è un pubblico pagante direi che le 8000 copie dell'ultima edizione ne siano abbastanza la dimostrazione poi è stato anche annunciato il doppiaggio della seconda serie di Nemo Slayer che era un po' il segreto di Pulcinella ed è però comunque un annuncio importante cioè comunque è bello che sia stato ufficializzato molti dicevano ma guardate che il doppiatore aveva smentito ma è normale che il doppiatore smentisse perché quel post su Instagram quasi sicuramente non lo poteva fare perché di solito i doppiatori quando fanno un contratto di lavoro di solito non possono divulgare quello che fanno e quindi magari facendo quel post potrebbe aver violato qualcosa e quindi doveva smentire però cioè proprio dall'immagine presente in quel post era palese che quella fosse la seconda stagione e vabbè comunque è un annuncio importante tra l'altro per la prima volta D-Nit ha aperto diciamo ha parlato che stanno collaborando con Crunchyroll e questo è veramente molto positivo perché in passato era stato detto che loro ci avevano provato ma dall'altra parte non erano interessati a collaborare con loro e invece a questo caso da quello che si è capito sembra che questa seconda serie di Nemo Slayer si tratti alla fine di una collaborazione quindi magari proprio la versione doppiata potrebbe uscire anche su Crunchyroll al di là dell'on video vabbè ma questo non è stato detto esplicitamente però magari potrebbe succedere questo poi ah poi è stato annunciato la seconda stagione di Made in Abyss non in simulcast uscirà dopo in latecast direttamente doppiata per carità mi fa piacere che esca direttamente doppiata cioè tanto io quasi sicuramente non l'avrei vista in simulcast comunque però un po' mi sembra cioè ormai sembra proprio che vid non esista più cioè ormai vid proprio non esiste più a quanto pare boh che è un po' un peccato sai era quel simulcast che c'è quella cosa che almeno vedo quella su quel sito no? invece no proprio anche di netta stessa sta abbandonando vid e basta quindi ricapitolando in generale non è stata secondo me una grandissima conferenza ma quelle poche cose che sono state dette sono state molto buone quindi non ci possiamo lamentare insomma il fatto che Deanit e Crunchyroll stiano collaborando è molto positivo perché potrebbe aprire le strade ad altre cose più che altro che al di là di Demon Slayer l'attacco dei giganti a me piacerebbe vedere alcune cose del loro catalogo doppiate come potrebbe essere un Tokyo Revengers Jusuzo e Kaisen o altri titoli per dire anche un Darling the Franks mi farebbe piacere Re Zero io non l'ho mai visto però è un titolo abbastanza importante serve bello che possa serve bello poterlo avere doppiato in un video magari altre serie Mob Psycho per esempio insomma di serie che Crunchyroll che sarebbe bello avere doppiato in un video ce ne sono davvero ce ne sono davvero parecchie anche un Darling in the Franks io lo comprerei volentieri i Blu-ray però vabbè chissà avrò mai modo di essere accontentato detto questo iscrivetemi al mio canale scrivetemi un qualcosina se ne sono i commenti ditene cosa ne pensate di questa conferenza se vi è piaciuta se siete soddisfatti se vi dite cose magari vi aspettate voi magari sareste aspettato anche altre cose effettivamente io ho qualche cioè secondo me è un po' poca roba alla fine buona poca roba buona però un po' di quantità non sarebbe stato male però vabbè alla fine di NIT come loro stessi dicono spesso all'inizio non è che lavora per le fiere quindi chiaramente magari quello che non è stato detto oggi potrebbe essere detto nei prossimi due o tre mesi e via quindi cioè non ne faccio chiaramente un drama però mi sarei aspettato qualcosa in più quindi mettete like al video ci vediamo al prossimo video